Mentre Slitter, in passo della giunta del sindaco Ignazio Marino, concentrato in queste ore a seguire i nuovi elementi emersi dall'inchiesta, oggi 5 Stelle, in conferenza stampa in Campidoglio, chiedono al prefetto di sciogliere il comune per mafia. Noi chiediamo un incontro ufficiale al prefetto perché secondo il Movimento 5 Stelle il comune di Roma deve essere sciolto per mafia. Ed è drammatico unire la parola Roma, una città con oltre 3.000 anni di storia, con la parola mafia, ma è opportuno che i cittadini romani ne prendano coscienza.